Diamo il benvenuto, lo sentite sotto c'è il nuovo tappetino musicale dell'ospite, quindi diamo il benvenuto al nostro ospite di giornata, la Presidente del Municipio 7, Silvia Fossati, è qui con noi, buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti voi, buongiorno a radioascoltatori e invece ai video ascoltatori. Maseri a casa, ho trovato la sostituta perfetta, hai già fatto l'appello sia per chi ci sta seguendo su Milano News che chi ci sta seguendo su Crystal Radio, è il nostro sindaco lei, lo sai? È il sindaco della struttura Milano News. Ah sì, perché noi qua siamo in mezzo al Municipio 7 e quindi è venuto a trovarci il nostro sindaco. Perché Silvia siamo arrivati qua? Perché so che tu e la tua collega del Municipio 8 avete avuto un'estate calda, diciamo. Perché è calda musicale. Spieghiamo bene cosa è successo. Allora, innanzitutto spero che il sindaco Sala non se ne abbia male, visto che mi avete cambiato sindaco, però detto questo, l'estate calda è dovuta ai concerti e a tutti gli eventi che vengono all'Ippodromo La Maura, all'Ippodromo e allo Stadio San Siro, alcuni addirittura in contemporanea. Il problema non sono i concerti, diciamo che ci andavano negli anni 70, visto che non sono più di verda età, però il problema è la gestione dei concerti, la gestione di tutto ciò che avviene al di fuori di quei muri dello stadio e dei due Ippodromi. Perché il problema, appunto, è non tanto il singolo evento che, vabbè, porta un po' di camera, ma ormai siamo abituati e siamo stati anche capaci. Anche il singolo evento. Il problema, però, è quando i singoli eventi si sommano. E abbiamo avuto più di una situazione in cui almeno due eventi c'erano in contemporanea, giusto? Assolutamente sì, e l'avremo anche sabato 23, se non ricordo male, perché abbiamo una partita del Milan e un concerto, mi pare, dei Maraghezzi. Il Maraghezzi. Ah, il Maraghezzi. Bisogna partire anche dal presupposto che stiamo parlando non di eventi, ma di grandi eventi con decine di migliaia di persone, perché l'Ippodromo sappiamo benissimo che tiene una quantità di cento di... La Maura poi è pazzesca. La Maura sono 80.000, lo stadio più o meno, quindi 160.000 persone sono... Più di un campo volo. Assolutamente sì. Più di un campo volo. Che però, se non ricordo male, dalla geografia e dall'urbanistica non è così vicino alle case. No, ma poi è in mezzo ai campi proprio. E le strade per defluire non sono quelle di Milano Centro, alla fine. Modena, no? Cos'è Modena? Modena o Bologna? Reggio Emilia è quello nuovo. E non è neanche il parco di Monza, assolutamente. Infatti, infatti. Ecco, perché appunto il tema è questo. Cioè, nessuno è contro i concerti, anzi, ben vengono le manifestazioni, più se ne fanno, più siamo contenti, perché vuol dire che insomma c'è anche l'introito, l'indotto e tutto. Ma non solo, ma c'è anche vivacità culturale. Pensiamo sia alla cultura che all'economia, in questo caso. Il problema è il deflusso, il problema è il rumore per i concerti. Il problema, devo dire la verità, è che non è solo l'organizzazione e la gestione, ma anche l'inciviltà delle persone. Perché non dimentichiamoci che se io trovo la spazzatura per terra o la macchina parcheggiata sul prato, per quanto uno possa far passare la polizia a dare la multa, è l'inciviltà del cittadino. Sicuramente. Dobbiamo però aiutarlo, non è che si possono dare solo le colpe. La prima aiuto, se posso dare un esempio, è forse cambiare il nome della fermata dell'ipodomo, e continuo a dirlo, perché quei poveri cristi che vogliono andare a concerti alla Maura scendono lì e poi si trovano a vagare per i quartieri cercando un ipodomo che non esiste. Quindi insomma, anche già quello potrebbe essere. E togliere San Siro invece, perché quelli che vogliono andare allo stadio scendono l'ipodomo e ogni volta si incasinano, quindi insomma, è sempre un po' così. Però dimmi Lorenzo. Io volevo partire a Monte. Ah giusto, 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 giusto. Capire... Posso dire, vuoi fare la domanda? Voglio fare la domanda. La domanda sui processi, perché mi interessano i processi decisionali dei municipi, il comune, eccetera. Voi, quando venite, voi municipi, quando venite a sapere di un evento come noi da Ticket One praticamente? Ma non lo so, se io vado a cercare sul sito di Snitec, sul sito degli ipodromi, sul sito di San Siro, ho il calendario. Questo è il modo in cui, di solito, io vengo a saperlo. Mi spiace dirlo, perché non sarebbe corretto, dovrei saperlo in anticipo. Le due, diciamo, i tre enti, Milan, Inter e Snitec, dovrebbero mettersi d'accordo, coinvolgere la FIFA se è necessario. Io lo vengo a sapere come tutti i comuni mortali. E infatti è quello che pensavamo anche noi quando ne stiamo parlando. È veramente assurdo che non ci sia... Quindi sostanzialmente non potete intervenire a monte dell'organizzazione già fatta e quindi difficilmente ritoccabile. Esatto, esatto. Per esempio, quando è uscita questa delibera di giunta sulla gestione dei grandi eventi, vengono chiamati, che vale per tutta Milano, però non in particolare per questa zona dove abbiamo tre poli. Poi c'è Piazza del Duomo, ci sono altri punti, ma qua abbiamo tre poli grossi, decisamente, che tengono veramente tante persone, tanti spettatori. E' uscita questa delibera che mette qualche paletto, qualche, però i concerti dell'anno 21, alcuni hanno già venduto i baglietti. Esatto. Per cui è sempre un a valle invece che a monte, come si suol dire. E allora, noi siamo in collegamento, o meno, abbiamo chiesto anche alla tua collega del municipio 8 cosa ne pensano. Perché infatti insieme avete avuto appunto questa estate in cui avete un po' tirato la giacchetta al sindaco e a tutta la giunta dicendo noi, dai, cerchiamo una soluzione. Sentiamo allora cosa ha detto ai nostri microfoni, proprio ieri ci sono sentiti io e Giulia Pelucchi, appunto, la presidente del municipio 8, sentiamo che cosa ha detto appunto ai nostri microfoni. Ciao Fabio e grazie per l'intervento. Dunque, quello che mi sento di dire è che mentre per i concerti del Stato di San Siro, negli anni si è consolidata un'organizzazione che di fatto crea evidentemente un disagio, ma un disagio accettabile per quello che riguarda i concerti, la stessa organizzazione non c'è stata. Noi in linea generale evidentemente non siamo contrari ai concerti, ai momenti di aggregazione, anche in quartieri più periferici che di fatto sono solo quartieri residenziali, quindi senza particolare attrattività. Tuttavia crediamo che vadano gestite meglio sia la viabilità e quindi il fatto che una persona che deve rientrare a casa non ci impieghi un'ora e mezza per fare 50 metri e dall'altro lato la situazione dei parcheggi, perché in quest'estate e l'estate scorsa, nonostante l'inlevatissimo numero di sanzioni che sono state erogate, le persone hanno continuato a parcheggiare sulle aree verdi, danneggiando prati, parchi eccetera. Quindi quello che chiediamo all'amministrazione centrale, di cui personalmente apprezzo lo sforzo rispetto alla deliberazione di giunta che prevede un limite massimo di iniziative per ciascun sito, è di verificare anche la capacità numerica di ospiti che questi siti possono contenere, quindi i due ipodromi possono contenere e dall'altro lato credo che non vada stabilito solo un limite orario di distanza tra un'iniziativa e l'altra, ma che in uno stesso giorno non siano realizzabili più iniziative nei due ipodromi e allo stadio. Questo è il nostro punto di vista, l'abbiamo portato avanti con degli ordini del giorno e speriamo che la prossima estate il quartiere Galleratese, Lampugnano e Cutiotto possano beneficiare di un intervento maggiore da parte anche dell'amministrazione centrale, pur ricordando che gli ipodromi sono di proprietà privata. Grazie e un abbraccio a tutti. Il grande concerto di Bormarle e un grandissimo concerto di Bennato, che fu il primo artista italiano a suonare a San Siro, tra giugno e luglio del 1980. Il problema è che adesso invece che dire nella stessa settimana, dici nella stessa serata. Iniziano sempre per esse, ma temporalmente sono un attimino diversi. Quella che sentite è Silvia Fossati, il presidente del Municipio 7, che è qui a dirci quanto è complicato gestire questa situazione. Aggiungo che oltre i concerti in questo triangolo di strutture c'è anche la normale movida della zona San Siro fuori, penso al piazzale, fuori dall'ipodromo. Ma quello è il giovedì sera, appunto. Sì, ma sa tutto. Ho fatto quanti sopralluoghi vado a farli in macchina, non in moto, però... Spieghiamo perché non in moto, perché cosa succede il giovedì sera, ahimè. Il giovedì sera c'è un raduno di motociclisti, lì nel piazzale dello Sport e su lungo via Caprilli, i quali hanno tutto il diritto di andarsi a bere una birra, eccetera, avrebbero meno diritto di sgasare con queste marmitte, con i decibel fuori... Sbaglio tu, sei una che va anche in moto, giusto? Andavo in moto, sì. Infatti andavi anche in moto, quindi insomma, adesso mi ricordo, infatti abbiamo parlato già di questa cosa della moto, quindi lo dici anche da motociclista. Vado adesso come passeggera e un tempo ero una, invece, guidatrice di moto. Vedi, 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 vedi. Quindi adesso cosa si può fare? Avete fatto delle proposte per cercare di... Sì, a parte quella ovvia e razionale e penso che non capisco perché la gente non ci sia arrivata, scusatemi il commento, di non farli in contemporanea e possibilmente neanche nello stesso giorno. Il 23 forse ci sarà la partita a mezzogiorno, se la FIFA accetta di spostarlo e il concerto alla sera. Detto questo, la zona ha tanti parcheggi, non sono attaccati, però c'è tutto, il Via Novara, i vecchi parcheggi dell'Expo, che poi erano stati fatti per i mondiali d'Italia 90, sono tutti parcheggi lungo la Via Novara. Quindi concepiti per lo stadio, quindi. Concepiti proprio per arrivare allo stadio. Allora, il privato può benissimo collaborare, anche economicamente, il parcheggio è gratuito e si mettono delle navette che portano nel piazzale San Siro. E questa potrebbe essere una cosa anche di facile attuazione, non ci vogliono cambi di strada, non ci vuole niente. Un'altra cosa che pensavamo negli ultimi periodi è anche di fare un altro ingresso. se appunto un ingresso, non so perché dovrei studiare la parte logistica, sulla Via Novara. L'ipodromo alla Maura tocca anche la Via Novara e a questo punto magari si avrebbero due ingressi che alleggeriscono sia l'afflusso col problema del parcheggio, ma anche il problema del deflusso, perché di colpo escono 80.000 persone, 60.000 persone. È come se il tifoso dello stadio, tra virgolette, fosse più abituato. Conosce la zona, conosce la città, sa quali sono le problematiche dei parcheggi, quali sono le problematiche dove si prendono i mezzi, eccetera. Poi ci sono i riti anche, la salamella dopo la partita, la birretta dopo la partita. Nonostante il fatto che la partita implichi una mezz'ora in cui entrano tutti e una mezz'ora in cui se ne vanno tutti, mentre i concerti hanno un ingresso molto scaglionato. Sì, addirittura dalla mattina presto, dalla notte prima. Il problema è l'uscita. Il problema è l'uscita. E c'è anche tanta gente che non conosce Milano e quindi cerca di arrivare più vicino possibile. Però con indicazioni chiari magari stampiamo la cartina dei parcheggi sul biglietto. Cosa costa? Magari non chiamare il posteggio che sta a Figgino Trenno, ad esempio, poteva essere che una soluzione è quella. Passati, ad esempio. Esatto. Mi ricordo che c'era gente che cercava il lab vaccinale in mezzo al parco di Trenno quando invece era il parcheggio Trenno che stava a Figgino. Una banalità su Google Maps. Se io scrivo Bianselmo Dabaggio 55 che è dove risiede il municipio, ti mandano in mezzo al parco delle cave. Ecco, ma bene. Per cui devo sempre dare l'indirizzo della scuola di fronte per che la gente arrivi. Vabbè, questa è una nota di colore. Però sono quelle cose che poi fai uno per 80.000, capisci che ti troverai 80.000 persone in mezzo al parco delle cave. E sarebbe un grosso problema a quel punto. Assolutamente. Anche perché darebbe un'idea per costruire un'altra arena al parco delle cave. Subito qualcuno. Notizia di oggi, commentiamola così veloce. L'Inter va a Tarozzano a proporre lo stadio a Rozzano. In un parco, letto, proprio sul titolo grosso. Ce ne faremo una ragione o cosa noi del municipio 7? Io sono interista, preferirei averlo qui allo stadio. Detto questo, l'importante è che lo stadio non diventi un rudile tipo il Marchiondi, tipo altre situazioni che abbiamo nella città di Milano. Perché questo sarebbe veramente un insulto ai cittadini, sia quelli che sono favorevoli, che erano favorevoli al nuovo stadio, sia quelli che invece volevano tenere in piedi San Siro. Per cui questo è l'unico, diciamo, terrore mio personale. Aggiungo nell'osservazione appunto sul fatto di quello che stavamo facendo fuori onda, che ci sono tante città che sono molto attrattive per quanto riguarda concerti, grandi eventi, nuove, come appunto penso al nuovo Reggio Emilia. Faccia la raffa tutto. Esatto, Milano piglia tutto per appunto non vedersi scippare sotto il naso da altre città, da altre arene. Abbiamo poco tempo, però leggeriamo questa mattina velocemente una nuova questione che è nata su via San Romanello invece. Cosa succede con il giostraio? Allora c'è un parcheggio che potrebbe essere utilizzato, che prima era di ATM, c'è una perequazione di aree del comune di Milano, per cui ci hanno comunicato che dovrebbero venire lì i giostraio che adesso sono in Via Natta, quindi Municipio 8, sempre io e la Pelucchi abbiamo queste... Ci scambiamo queste cose. Noi abbiamo sollevato tutta una serie di criticità per questo spostamento e quindi attendiamo la valutazione di queste nostre criticità. Lì è un'area grande che sarebbe invece meglio dedicare a una serie di servizi opportunità per il quartiere di Quinto Romano. La ricicleria era veramente una cosa irrazionale. Io non sto parlando di, non nel mio giardino, ma sto parlando di valutazione razionale. Quella era irrazionale. Questo è un problema, perché l'area è veramente critica. Notizia buona su Saromanello, ve la posso dare? Saromanello 34, case MM, non mi ricordo quanti milioni di euro, se non ricordo male 18-19 milioni di euro, per la ristrutturazione ai tetti, facciate, eccetera, eccetera. Vedi, 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 abbiamo ancora una bella notizia. Abbiamo ancora una bella notizia. Vai, puoi andare a casa, perfetto, vedi, hai capito già come funziona. Tempi radiofonici, io prima vi sono un attimo... Lei invece ha visto, ha già adacciato il lupo tutto all'inizio, poi alla fine, così quando vai a casa, come quando vai al ristorante, se mangi un buon dolce, sei a posto, perché ti ricordi l'ultima cosa che hai mangiato. Ti danno un buon limoncello. Un buon limoncello, vai bene. Presidente, grazie allora. Grazie a voi di questa opportunità, magari ci sentiamo e rivediamo presto, e buona giornata a tutti. Grazie mille al presidente del Municipio 7, Silvia Fossati.